E adesso, prima di terminare il Giro dei Solisti, ci terrei a chiedervi un applauso per questi meravigliosi musicisti che sono alle mie spalle. Io vorrei partire dalla vostra destra, dalla nostra sinistra, là in alto, al basso, Loris Bresciani. Grande Loris. Alla chitarra, ormai è tutta estate, si può dire che è a Gatteo, l'avete visto tante volte, suona anche con noi di Emilia Romagna Band. Da Bologna, Pier Martinetti, un mito. Alla batteria, eccezionalmente per Emilia Romagna Band, è una new entry, perché è la seconda sera che lavora con noi. Vorrei un grande applauso per Luca Bergamini. Grande Luca. Lo avete appena ascoltato? Lui è il farinetto in do, ha lavorato a fianco del maestro Borghesi, l'ho detto anche visto nelle immagini. Gabriele Zaccherini. Grande Zac. Alla mia sinistra, che sta imbracciando uno strumento che poi vi spiegherò, vorrei un grande applauso per Daniele Donadelli. Fisarmonica e pianoforte. Grande Daniele. E questa è una persona che è il nostro legame col passato ed è la nostra spinta per il futuro. Vuol dire che sono anziano? Eh, Edmondo, l'importante è invecchiare, lo sai, perché non invecchiare è peggio. Va bene, va bene. Io vorrei un grande applauso per questo grande personaggio. Spalla del maestro Borghesi per tanti anni, portatore della scuola Borghesi. Edmondo Comandini. Grazie, grazie. Grazie. Adesso devo presentare il responsabile di tutte le Emilia Romagna Band. È lui che ha avuto l'idea di fare questo gruppo, è lui che ha scelto tutti noi. Se le cose vanno bene, ci fate un applauso noi. Se le cose vanno male, ve la prendete con Marco Tagliavini. Sono tutto per voi. Grande mondo. Bene, bene, bene. Allora, il prossimo brano. Avete visto Daniele che ha imbracciato una fisarmonica nera? Una fisarmonica con scritto Crozio, ma una fisarmonica, scusa Edmondo, una fisarmonica che c'è scritto Borghesi. Questa è la fisarmonica degli anni settanta, suonata dal maestro Vittorio Borghesi. È un grande piacere per noi potervelo far vedere. È un grande onore per Daniele, l'ha detto lui stesso, suonare questo strumento. È un onore. E con questo strumento ci presenta uno dei brani più classici che hanno fatto un grande successo. del maestro Vittorio Borghesi. Per tutti voi, arcobaleno. Vittorio Borghesi. 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 � , 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 ,, , , , , Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti